Buongiorno, eccoci qui dallo Smart Building Expo, una fiera dedicata al mondo dell'automazione in ambito building. iGECO Energy è presente con una serie di strumenti e prodotti software proprio per l'analisi del consumo energetico e ancora una volta presentiamo i nostri prodotti per il monitoraggio dei contatori di Enel in bassa tensione, questa volta però uniti ha una serie di strumenti per la diagnostica software, quindi il nostro portale cloud iGECO Energy e tutta una serie di prodotti per agevolare l'installazione dei punti misura energivori quindi dispositivi in radiofrequenza Lora, quindi analizzatori di energia capaci di utilizzare sia sonde Rogoski che trasformatori di corrente e quindi direi una piattaforma di monitoraggio completa e idonea per le esigenze sia degli installatori che dei clienti più evoluti. Venite a trovarci, vi aspettiamo calorosamente.